Leggiamo la lettera aperta del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ricca. Carissimi concittadini ispicesi, in questi giorni di profonda commozione e partecipazione alle liturgie pasquali che caratterizzano da anni lo spirito della nostra comunità, è mio desiderio condividere con tutti voi una riflessione riguardante il momento delicato e fragile legato alla pandemia che da poco più di un anno continua a stravolgere le nostre abitudini, la nostra quotidianità, intaccando spesso la nostra serenità. Tuttavia la condivisione e la partecipazione fisica ai momenti liturgici di questa Pasqua 2021 ha destato in me e penso in tutti i fedeli che hanno assistito alle celebrazioni religiose la consapevolezza che oggi si può guardare avanti con più fiducia e speranza che il periodo buio della pandemia ci lascia oggi intravedere il raggio di una tregua e di un cambiamento di prospettiva permettendoci di riappropriarci a piccoli passi dei nostri spazi quotidiani e delle nostre relazioni sociali. A distanza di poco più di un anno, con pazienza e distanziati, siamo giunti ai piedi del Cristo con profonda commozione e silenziosa partecipazione. Rispettosi del distanziamento sociale, dotati di mascherine, ci siamo uniti nella preghiera prostrati dinanzi al Cristo flagellato alla colonna e al Cristo alla croce. A tal proposito è mio dovere istituzionale ringraziare il sacerdote Don Gianni Donzello della Basilica Santa Maria Maggiore, la rispettiva confraternita e il presidente avvocato Piero Rustico, l'associazione dei fazzoletti rossi e il presidente Giancarlo Ferla. Il sacerdote Don Maglio Savarino della Basilica della Santissima Annunziata, la rispettiva confraternita e il presidente dottor Tommaso Gregni, l'associazione cattolica Don Mosco e il presidente Giovanni Fronterre, per aver organizzato e gestito il flusso dei fedeli nelle rispettive chiese, in modo efficiente e scrupoloso, garantendo uno scrupoloso rispetto delle regole anticontagio. I miei ringraziamenti istituzionali e personali vanno alle associazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa, all'associazione Futura e alla Polizia Locale di Ispica, per la loro collaborazione sempre proficua e preziosa, in modo particolare in questi giorni. Colgo l'occasione a nome del sindaco, della giunta e dei consiglieri comunali per porgere gli auguri di una buona Pasqua a tutti i cittadini, ai dipendenti comunali, e agli operatori sanitari del 118, ai medici e agli infermieri dei presidi ospedalieri del nostro territorio, impegnati costantemente nel contenimento e nella gestione dell'emergenza legata al Covid-19. Lorenzo Ricca, presidente del Consiglio Comunale di Ispica.